15 marzo 1975 muore Aristotele Onassis. Nato a Smirne nel 1902 dovette emigrare con la famiglia in Argentina nel 1922 quando i nazionalisti turchi proseguendo nello sterminio degli armeni incendiarono anche la parte greca della città. Ben presto a Buenos Aires iniziò la sua fortuna come imprenditore proseguendo la tradizione familiare nel traffico di tabacco finché nel 1928 il governo greco gli affidò il ruolo di mediatore in un importante accordo commerciale nominandolo poco dopo console generale. Aveva appena guadagnato il suo primo milione di dollari probabilmente non immaginava che qualche tempo dopo la stampa gli avrebbe dato l'appellativo di uomo più ricco del mondo. Allo scoppio della seconda guerra mondiale riuscì a fare da intermediario per procurare navi e materie prime agli alleati con gli alti guadagni dei inoli cominciò a costruire super petroliere progettando una flotta in grado di fare concorrenza ai grandi armatori. Nel 1946 le nozze con Atina figlia del magnate marittimo Stavros Livanos favorirono il suo ambizioso piano. Durante le guerre arabo-israeliane del 1956 e del 1967 con la chiusura del canale di Suez ricavò immensi profitti trasportando petrolio dal Medio Oriente attraverso la rotta del capo di Buona Speranza. Intanto era riuscito ad entrare nella societé de Ben de Mer ottenendo il controllo dei più importanti immobili di Monte Carlo, casino compreso. Collezionista di donne celebri nel 1968 troncò una lunga relazione con Maria Callas per sposare la vedova di John Fitzgerald Kennedy, Jacqueline Bouvier, che alla morte del secondo marito pretese dalla figliastra Cristina una liquidazione di 20 milioni di dollari.